La mattina visite guidate al castello Normanno Svevo e al museo. Promocultura Group, nell'ambito del progetto regionale Principi Attivi, in collaborazione con la Proloco e il comune di Mesagne, ha organizzato l'iniziativa Mesagne da scoprire, visita guidata al castello comunale e al museo del territorio. Un evento inserito all'interno delle attività che Promocultura offre in virtù di una convenzione firmata con il comune di Mesagne che prevede la collaborazione di Promocultura nella gestione dell'ufficio informazione e accoglienza turistica. L'obiettivo è quello di far conoscere meglio la storia dei beni culturali ai turisti e agli stessi mesagnesi che non hanno mai avuto la possibilità di ammirare da vicino le bellezze storico-artistiche e archeologiche della città messapica. È un'iniziativa che ripetiamo in pratica ogni mese, ha affermato Elisa Romano, responsabile di Promocultura, ed è un'occasione importante per attirare tanti turisti e offrire loro la possibilità di scoprire Mesagne. Grazie all'impegno dei volontari, quotidianamente riusciamo ad offrire un servizio utile al turista.